Una storia molto antica, infatti la mia bisnonna venne qui dal Lago Maggiore con i suoi due figli maschi, che sono questi, e portò l'attività di riparatrice di ombrelli qui nel Bassanese. Si innamorò della cittadina e decise di rimanerci proprio a vivere ed aprì il primo negozio in Piazza Libertà. La voglia di vendere gli ombrelli ancora di qualità, anche se ormai noi l'abbiamo chiuso da vent'anni, infatti ancora adesso riusciamo a far fare ombrellifici sempre italiani, gli ombrelli con il nostro logo, logo Ronchi Bassano. Ad esempio per quello che riguarda le cinture, noi le facciamo fare sempre da un cinturificio italiano, prediligiamo pelli italiani con concia italiana e le facciamo anche queste maschiare con il nostro logo. Dalla vecchia tradizione della bisnonna ho imparato anche a fare dei piccoli lavoretti per far sì che i bassanesi o chi viene a comprare qui anche dalle città di Mitrofe possa avere anche una piccola assistenza nel post vendita. Credo che per i nostri clienti o per i futuri clienti il valore di un negozio storico, che comunque una persona che viene qui si fida del mio consiglio e si fida di quello che dico perché sa che sono qui da tanti anni, prima di me c'erano i miei genitori e prima ancora appunto i miei bisnonni e nonni.